Nel giro di qualche settimana dovrebbe essere completato l'intervento di riqualificazione del campo sportivo di Belvedere. I funzionari del Comune Capologo hanno deliberato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere complementari relative al campo della frazione, il cui fondo è stato realizzato in erba sintetica. La relativa dei termini è stata sottoscritta all'ingegnere Natale Borgione, dirigente del settore reti e infrastrutture. L'intervento, affidato alla ditta Euro-CI, la stessa che sta seguendo i lavori principali, consiste nella realizzazione di un pozzetto di decantazione intermedio allo scarico dell'area di gioco del campo. Per tale motivo è stato chiesto al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa l'autorizzazione all'utilizzo delle vasche di proprietà di Mitrofa al campo di gioco. Mancava solo quest'atto burocratico per sbloccare i lavori e consentire in questo modo alla ditta di completare la riqualificazione dell'impianto che è destinato a diventare uno dei campi di calcio più moderni e funzionali della città. Spero che l'impianto, dice il consigliere comunale Enzo Pantano, diventi un mezzo per invogliare i nostri ragazzi a fare calcio. Mi auguro che non diventi invece uno strumento per fare business, per vedere una lunga tradizione del calcio, anche se adesso la squadra che mi viene in promozione si è trasferita, armi e bagagli, ai campi di Via Lazio a Siracusa. Il progetto di riqualificazione del campo sportivo è il frutto della partecipazione da parte dell'amministrazione comunale all'avviso pubblico del lancio e dell'istituto per il credito sportivo per partecipare all'ammissione ai contributi destinati a totale abbattimento della quota di interessi sui mutui per il finanziamento dei progetti di impiantistica sportiva comunale. Il progetto di riqualificazione del campo comunale di Belvedere ha ottenuto un finanziamento di 900.000 euro.